ci troviamo sul ponte diciamo sto ponte guarda quanta cazzo è questo ponte ed è uno dei ponti più belli ma anche uno dei ponti più fracichi vediamo vediamo i ferri guardate qua i ferri a tutte le parti ma dopo vi facciamo vedere guarda la striscia la notizia ecco qua abbiamo demonito il ponte ancora paura questo guarda qua guarda qua non è morto cioè io matto da qua ce dobbiamo andare subito immediatamente è in giù della marpassa guarda qua guarda qua a tutte le parti guardate quando cazzo è alto questo ponte mannaggia il porco di riavola guarda non ha più di bicicletta che se ne casca sotto le ponte non ha più la lupa la pette cioè è una cosa tutte le parti tutte le parti guarda guarda ovunque vedi dobbiamo capire che ponte poi lo scriviamo ma se ci sta guarda ma tutti li poi frasico proprio cioè frasico proprio ma questo eccetera ma scappa l'acqua ma te